Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con una review ma prima tanti auguri di buona epifania Mi raccomando lasciate un like se vi piacciono queste review Lasciatemi scritto nei commenti il vostro parere su questi due giocatori Perché oggi andremo a vedere Politano versione Jolly Invernali che troviamo nell'SBC E Zidane versione Icon Mid dato che è appena uscito all'SBC Mi raccomando andatevi anche a recuperare il video uscito ieri dove ho fatto le vostre squadre Se volete consigli sulle squadre ovviamente dovete mandarmene nei commenti del video del faccio alle vostre squadre Cliccando sull'ai potete recuperarlo Vorreste vincere 300.000 FIFA Points e una PlayStation 5? Come ogni anno OneFootball ragazzi organizza questo fantastico giveaway durante il periodo natalizio Basterà cliccare sul form che trovate in descrizione per completarlo Ci saranno ben 6 vincitori per i FIFA Points e uno per la PlayStation 5 Considerate poi che a breve ci saranno i Team of the Year E questi premi verranno consegnati appunto prima della squadra dell'anno Così potete sfruttarli per cercare di spacchettare un toti Per partecipare vi basterà cliccare sul link in descrizione che trovate nella prima riga Caricare gratuitamente l'app di OneFootball che trovate all'interno del link Aprite l'app e scrivete nel form il titolo del primo articolo che vedete all'interno dell'app Poi compilate inserendo nome, cognome, email, la console da cui giocate Accettate i termini e condizioni e inviate Quindi mi raccomando cliccate sul link e partecipate perché è totalmente gratuito E se siete fortunati vincerete voi Fatemi sapere nei commenti se l'avete fatto e se vincerete appunto il giveaway E niente per il resto adesso analizziamo i due giocatori partendo da Politano versione Jolly Invernale appunto SBC Questa carta si presenta con 1,71m di altezza Quindi sulla carta mi posso aspettare un giocatore basso che di conseguenza non ha chissà che velocità dovuto alle gambe corte Però comunque 93 accelerazioni, 91 velocità scatto Quindi poi vedremo in game come questo si riassumerà e come questo si concretizzerà A livello di piedi preferito c'è il mancino Quindi di destro se non 4 di debole e non avendo statistiche assurde di tiro di passaggio Possiamo aspettarci che sia forte solo di mancino e poco di destro 4 di massabilità ovviamente peccato che non ha 5 Perché ovviamente questo avrebbe dato sicuramente molto più valore alla carta appena uscita Considerando che nel passato ci hanno dato Ribéry che ne aveva 5 Ed è simile sotto certi punti di vista a questo Politano come genere di giocatore Poi come ruolo alternativo abbiamo tante soluzioni Esterno destro, alla destra, seconda punta e punta Poi è del Napoli quindi un buon link, buon link anche con l'Italia Abbiamo tutti quanti sono saliti da Zambone a Kim eccetera eccetera Poi abbiamo come statistiche oltre che un 93-91 di accelerazione di velocità scatto Che abbiamo già analizzato Abbiamo un tiro che è semidecente Nel senso che non è un tiro da punta sicuramente Anche se parte da punta Perché ha una finalizzazione decente Non è un giocatore che ti segnerà in ogni condizione Ha sicuramente un buon posizionamento La potenza tiro non è malvagia E tira molto bene invece da fuori area Dovrebbe avere un buon tiro a giro Consideriamo anche che ha tipo una cosa come 14 trait Di cui abbiamo nel tiro tiro da fuori Tiro di precisione Punizioni potenti Abbiamo tiro di esterno E specialista calci piazzati Quindi poi sulle punizioni E anche sul tiro col piedevole Cercando appunto il tiro di esterno Dovrebbe cavarsela A livello di passaggi Abbiamo un giocatore che mi aspettavo un po' di più Mi sarei aspettato un po' di più Perché abbiamo un passaggio grotto e un passaggio lungo Che sono decenti Niente più niente meno A questo punto del gioco Incomincia a non essere abbastanza come passaggio Una carta che va sbloccata Non scambiabile di questo genere Con 88 di overall Preso e considerato Che appunto le alternative Anche uscite precedentemente Hanno passaggi superiori a questa carta Dato che dobbiamo trovare qualcosa in cui eccella A livello di Considerando anche la visione non altissima A livello di dribbling Ha sicuramente un controllo Un dribbling veramente valido L'agilità e l'equilibrio Sono assolutamente di livello Da questo punto di vista Non gli si può dire niente Poi ha dribblatore tecnico E non mi ricordo se c'è altre cose interessanti Però ci possiamo aspettare Un giocatore sicuramente super fluido Nei movimenti E super agile Dato che in genere Lui lo ha di base Sempre stato E quindi insomma Possiamo aspettarci un giocatore Da questo punto di vista validissimo Molto resistente Ha anche una lettura difensiva E quindi qualche volta potrebbe Anche se ha poca aggressività E forza fisica È inesistente Considerando poi che è piccolino Il body type Dobbiamo andare a vedere Come si comporta in game E poi diamo una valutazione finale Ma quindi com'è in game Questo politano? Allora innanzitutto Questo politano Ha una buona corsa Mi aspettavo di meno Mi aspettavo corresse meno Mi aspettavo una via di mezzo Tra Insigne Ribery E non so Un chiesa Quindi un giocatore Che corricchia Ma non troppo E che essendo basso Fa fatica Invece in game Ho visto che corre parecchio Un po' come negli altri anni Quindi insomma Anche un ottimo sprint boost Se la cava molto bene In termini di velocità E quando salta l'uomo È difficile da recuperare Non è il sprint boostista Alla all overrun All overrun O quei generi giocatori lì Ovviamente perché È comunque un 93 Di velocità 92 velocità Con un metro e settantino Di altezza Però corre molto di più Delle aspettative Sapeva avrebbe un minimo corso Però non mi aspettavo Così tanto Quindi secondo me Già questo è un buon Incipit Per poterlo utilizzare Non solo come trequartista Ma anche come esterno A livello di finalizzazione Non è malvagio Ma non eccelle Nel senso che comunque Finalizza Un buon 7-8 volte su 10 Generalmente Di mancino Se la cava bene E i destro Molto molto meno È bravino a finalizzare Ma non è incredibile Motivo per cui Secondo me Come attaccante Ruota poco E non attacco Poi a due Magari qualcosina Possiamo cavarcela Giocandolo a sinistra Così cercate il tiro Di mancino Ma come attaccante centrale Unico Considerata anche la fisicità Lo vedo veramente male Invece l'ho visto Sbagliare davvero Tanti passaggi In particolare Di destro Poi io gioco Un pochino Più un manuale Però Non è preciso Quanto altri giocatori Quanto Riberio Quanti altri giocatori Lasciate perdere statistiche Io parlo di come si comporta In campo O di come si è comportato A me Nel dribbling Invece È eccezionale A livello di dribbling Si muove con Un'agilità Incredibile Questo avesse avuto 5 stelle di skill Sarebbe stato Un mostro Però purtroppo Non ce le ha E quindi pone il dubbio Se è meglio Lui Riberio Nella posizione A tre quarti Ha un ottimo dribbling È molto bravo A saltare l'uomo Si gira veramente Con una rapidità Devastante Per cui veramente Molto bene E nel complesso Ne vale la pena o no Io direi che Sì Ci può stare Considerando che il prezzo Non è così elevato Secondo me Va benissimo 92.000 crediti È sicuramente Un ottimo giocatore È solo esplosivo Come Accelerate Per chi gioca Su nuova generazione Ma in tutti i casi Essendo che tanto Non cambia niente Lo stile intesa Va giocato con Cacciatore Perché così Li portiamo a 99 La velocità Gli miglioriamo La situazione sul tiro Perché di dribbling Non ha assolutamente Bisogno una mano Il passaggio Purtroppo Non starei a focalizzarmi Cercherei di migliorare Il tiro Perché comunque Col passaggio Ben omanete La cavi Quindi concludendo Io direi che Per chi ha una serie A Ci sta a sbloccarlo Per chi non ha una serie A Ma lo vuole come Super Sub Ci sta a sbloccarlo Non strutturerei una rosa Attorno a lui E' assolutamente Un buon giocatore Ricordiamo che Un metro 71 Senza fisicità E anche a tre quarti Se non siete bravi a dribblare Lo lanciano Come esterno Comunque gira E ci sono sicuramente Alternative Non è un giocatore Che se non lo fate Non avete alternative Però comunque Un giocatore che Terrei come alternativa E di conseguenza Lo sbloccherei Con Zidane Sicuramente Il discorso è un po' diverso Preso e considerato Che la carta Sappiamo che è forte Perché qua non c'è bisogno Di analizzare Per sapere Che tutte le versioni Di Zidane Sono forti La Baby La Mid La Prime La Prime Moments Nel corso di FIFA Da quando è uscito Da quando è stato giunto Come centrocampista E tre quartista È sempre stato forte Questa qua è la versione Che mi è sempre piaciuta In tutti i FIFA Vediamo se anche questa Non sarà così Però c'è da prendere E considerare Che è un SBC Che costa cara Costa quanto La versione scambiabile Praticamente Con la differenza Che questa però Vi rimane lì nel club Quindi se poi Non vi piace È pericolosa Rendimento giocatore Normale normale Quindi Warcraft È molto passivo La versione Baby C'ha alto normale Le altre non mi ricordo Però è una versione Un po' passiva Di rendimento Soprattutto in fase difensiva Dove è generalmente Un giocatore molto anonimo Di solito Piede preferito Destro Però sappiamo tutti Che è ambidestro Perché ha 5 di piede debole 5 di massabilità Come traits Dovrebbe avere Non ce l'ha però In genere lui cerca Molti passaggi di esterno C'ha i passaggi lunghi Come traits È un 5-5 Quindi tanta roba Tra skill e tutto Ruele alternativi CC e S Questo molto molto bene Perché così è facilmente Adattabile in squadra Anche per l'intesa È francese Quindi da doppio link Alla Francia 83 di accelerazione 81 di velocità scatto Una buona velocità Ma c'è da considerare Che mettendogli ombra E migliorando Quindi velocità difesa Lui è un lengthy A livello di tiro A 92 di posizionamento 89 di fidanzazione 88 di potenza tiro 91 di tiro a distanza Tiro al volo 93 89 di rigore C'è poco da dire A livello di tiro È un mostro Quindi questo Quando questo tira Tira forte Tira bene Tira preciso In area di rigore Al volo Di precisione Di esterno Si sa posizionare Inserire Cioè Questo è fortissimo In fase offensiva Poi a livello di passaggi Pure è un mostro Perché comunque Abbiamo un regista Uno dei più forti Della storia del calcio E anche su FIFA È un regista Antequartista Un giocatore di impostazione Veramente allucinante Perché è bravissimo Passare il pallone Sia a livello di passaggi corti e lunghi E una visione della Madonna Questo ti sa mandare in porta In praticamente qualunque situazione Anche quando non ti vedi Agli occhi tipo sulla nuca Dietro A livello di gestione del pallone Ha un controllo Un dribbling della Madonna Ha una grandissima reattività Una grandissima freddezza Il tutto associato A 5 stelle skill Non fatevi spaventare Dall'agilità e l'equilibrio Perché lui È un giocatore particolare Con un boy type unico Che lo rendono Davvero eccezionale Nelle movenze Ovviamente non ha l'agilità L'equilibrio Delle versioni prime Prime moments E così via Però comunque Anche in questa versione Fidatevi In tutte e anche tutte le altre Si muove bene Perché se lo sapete utilizzare E sapete anche skillare Questo qua è un giocatore Pazzesco Anche nel dribbling A livello difensivo È credo la versione peggiore Questa qua Perché in questa versione qua Non difende granché È una lettura di merda Non intercetta mai È poco aggressivo E non è precisissimo Nei contrasti A livello di forza fisica È sicuramente forte Quindi se manualmente Poi andate addosso a qualcuno Lo spostate Però tenderà pochissimo Secondo me Diciamo a livello Automatico A cercare Di togliere il pallone Agli avversari Poi come trades Abbiamo tiro precisi Da classe Passaggi lunghi Regista E dribblatore tecnico Perché bisogna stare attenti Perché questa carta Come SBC Vi chiede un botto di roba Vi chiede una sfida 34 85 86 Un'altra 85 Con un tot 86 Un'altra 86 Con un tot 87 88 89 88 Quindi Vi chiede molte sfide Per un costo totale Di circa un milione Preso È considerato Che questa versione qua Ce l'avete disponibile Per 30 giorni Ragazzi 30 giorni Vuol dire che Fino al 6 di febbraio Questa carta è sbloccabile Per cui non c'è da affrettare Se non siete sicuri O se non volete rischiare Un milione di crediti Di fodder O di budget Perché comunque Avete la possibilità Di sbloccarlo Da qui a un mese Soprattutto se magari Vogliamo aspettare i toti E vedere cosa esce O i food centurion Che escono stasera Quindi io farei molta attenzione Prima di alloccarlo Partiamo dal presupposto Che di velocità In particolare Su nuova generazione È devastante Ha un'accelerata Che veramente Fulminia Salta chiunque In due secondi Si allunga la palla Non lo ricopri più Questo corre veramente Un botto Quindi veramente Tanta roba la corsa Considerando anche Lengthy di Accelerate A livello di tiro C'è poco da dire È Zizou Finalizzatore allucinante Bravissimo a tirare In tutte le condizioni Di mancino di destro Di esterno A giro Di potenza In veramente Qualunque tipo di condizione Se lui tira È una certezza Al tipo di tiro Che cercate Se siete precisi voi Generalmente Lui segna O la manda Nel punto In cui l'avete previsto Poi può essere bravo Il partiere avversario Però generalmente È un giocatore Molto affidabile Passaggi ragazzi Neanche sto a dirvelo È un regista Allucinante Cioè lui è Veramente Uno dei registi Più forti del gioco In tutte le versioni In questa pure È veramente Un giocatore devastante Quindi passaggi Assolutamente Incredibili Nel dribbling Come un po' Vi anticipavo È un po' Come mi aspettavo Perché comunque L'ho provato tantissime volte Nella mia vita In tutte le versioni In tutti i giochi Perché io adoro Zidane Sia su FIFA Che per come era forte Nel calcio giocato E il dribbling È devastante Però dovete saperlo utilizzare Perché comunque Lui sulle sue movenze Sono affidabilissime Considerando che potete Anche sfruttare il fisico Per saltare l'uomo Però generalmente È un giocatore È un giocatore Che nel dribbling Ha una forza importante Grazie anche alle skill E ha alcune movenze Particolari Del suo boite Perché se sfruttate bene Sono davvero Tanta roba Il suo grande problema Però è che A livello difensivo Ragazzi È inesistente Perché è anonimo E assolutamente Non c'è In fase difensiva Dovete essere voi Manualmente A prenderlo E metterlo Addosso un avversario Perché se non lo fate Lui si fa i propri cazzi Se voi lo mettete Mediano Con ripiega Tra i difensori Lui comunque Ve lo trovate In attacco Dietro a Ronaldo Non si sa Perché o anche davanti A volte Non ha una logge Nel senso Va bene Il worket è normale È normale È bravo a inserirsi Però purtroppo Ha una tendenza offensiva Molto maggiore Rispetto a quello Che dice la carta Quindi fateci attenzione Se lo volete utilizzare Dovete mettere in conto Che di fianco Ci deve essere Un mediano puro Forte Tipo Vira Va benissimo Come coppia Però non può stare Di fianco A un giocatore Che non è un mediano puro Ma ne vale la pena Sbloccarlo? Un milione e quattro Di SBC In questo momento Mi sembra Pericoloso Per cui io vi do Una riserva La carta è forte Sì è fenomenale Però Il problema qual è? Che non è un centrocampista Per tutti Quindi non fatevi Ingolosire Se non sapete schillare Non siete bravi Manualmente a difendere E soprattutto Se non sapete Sfruttare Un giocatore Come questo Per come ve l'ho descritto Perché non è un giocatore Per tutti È un giocatore Che a tutti Sembra forte Ma poi da utilizzarlo E farci la differenza In campo Dovete saperlo utilizzare Che vuol dire anche Che ve lo prendete E imparate a usarlo Però dovete mettere in conto Che potrebbe servire Del tempo Preso e considerato ciò A me sembra La classica SBC Che ti buttano fuori Per cercare Di fotterti I crediti Prima dei Toti Quindi Fateci attenzione Il mio consiglio È di Se volete proprio Sbloccarlo Mettere da parte I fodder E aspettare I Toti E anche questi Food Center Quindi stasera Li vediamo Però più che altro I Toti Perché prima dei Toti Quello che fa Iei di solito È buttare fuori SBC Interessanti Ma non Le migliori possibili Perché così Ti tolgono in fodder Se è obbligato a comprare Durante i Toti In caso di SBC Allucinanti Quindi fateci attenzione Perché questo è un consiglio Che vi do dal cuore Avete 30 giorni Per sbloccarlo Quindi pensateci bene E temporeggiate Non fatevi ingolosire Poi se volete farlo Fatelo Cazzi vostri Però io ve lo sto a D Fateci attenzione Poi vabbè Come stile intesa Ovviamente Ombra Questa su vecchia Su nuova generazione Su nuova tanto elenti Su vecchia Non lo è Però in tutti i casi È il suo stile Intesa giusto Poi aggiungo solamente Che secondo me Gira un pochino meglio Su nuova generazione Però in tutti i casi È un'ottima carta Preso e considerato Che secondo me Bisogna farci un filo Di attenzione Giusto per questa cosa Dei fodder E niente ragazzi Fatemi sapere cosa Pensate Noi ci vediamo Nel prossimo video Vi ricordo come al solito Di provare la carta in prestito Prima di dare un giudizio Avete la possibilità Di sbloccarlo Lo so che costa 83 De una rettura di palle Però può essere Sicuramente Una soluzione Se non siete sicuri Provate la versione In prestito Con le 5 partite Che vi darà un input in più Noi ci vediamo ragazzi Nel prossimo video Bella a tutti Ci vediamo stasera Con i Food Centurion Ai 19.30